prova speciale massimo guarda come niente fosse non si dice prova si dice lo faccio guarda capo guarda capo guarda capo Robo tasi no tasi putata via li vai buitata via no che buttata via, sono arrivato fin lì e sono contento urca che impedito che sono oh che cazzone, che cazzo vado qua vabbè eh certo che un era il chicken line dell'altra grande capo numero uno adesso sono storto molla nel dubbio non è peggio di quello che hai fatto prima però devi sentirtela e una volta che ti fermi non riparti più buona, 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 tutta zero qua bisogna un po' uff 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 come cazzo hai fatto c'è un miracolo eh ma io sono esperto, quella recuperi lì il capo che arriva ah quella è proprio la cima del cibolo la montagna è più alta è Montecimone quello Pino il solitario lo chiamavano Pino lo chiamavano Pino il solitario oh papà oh oh arriva da qua grande l'hanno chiusa perché è troppo scassata a posto siamo da quando in qua si chiude una DH perché è troppo scassata mi preoccupa tutto a zero cazzo qua bisogna lavorare di braccia perché se mi si pianta qua e passo sopra che paura basta un attimo e sei morto sbagliato devo stare più avanti va 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 falla correre falla correre e se mi fermo qua sono morto infatti vai giù cominci a erci senza gambe mi sono fermato quasi mi ammazzo non fermarti che qua se ti fermi ti fai del male più che da andare mamma mia sono senza braccia senza gambe la stavo anche perdendo dovrebbe aver più forza e farla correre di più invece sono stanchissimo vino solitario minchia mamma mia ho perso il davanti mi sono visto per terra ma siccome i guanti nuovi non volevo rovinarli è pesa una tonnellata questa grazie Monte Cervarola adesso invece di fare pieno solitario facciamo un'altra ma saranno più facili facciamo un'altra no non sembra no no con la pedale con la ruota 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 eh sì mamma mia che flash da troppa legnata stigione wow che legnata che ho preso ho preso quel ceppo in mezzo come hai visto un vuolo che condizioni che hanno anche sporcato i guanti nuovi vertiti via magari no no non ho tirato via la mano quando stavo cadendo ho buttato col casco no ma se non so non mi ha fatto tempo non hai fatto tempo mette la mano piano l'ha copiata è arrivato piano e poi ha aperto i freni qua dritto qua qua dritto qua dritto qua sì se non freni troppo dovrebbe prendi qua così sì poi pian piano ha lasciato andare non dovrebbe toccare sotto no no madonna mi avanza sei solo stanco non è niente di peggio di quel che hai fatto fino adesso e allora hai fatto bene così mamma mia mamma mia cavatappi qua e cavatappi non ho più forza non ho più forza devo farla col piedi giù non ho più forza di reazione dove vado ah ho dovuto mettere giù il piede ma hai detto anche qua non riesco a girarla io neanche più forza per girarla a mano hop 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 zero 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 grazie grazie cos'è? per l'icarolo ma è quello che siamo arrivati giù ieri la siamo arrivati vicino a quella giù di là vicino a quella chiesa chi sa no ma bro siamo arrivati là ieri siamo arrivati là no no siamo arrivati là per un'altra banano ah quella è la poi ho fatto che in montagna è la due è il dio che attresta là ok adesso sembra l'albassante nel quadro ma vai sette filetti porca pittano è già scendere giù di lì sembrava già brutta questa è lì l'ho preso sopra sono stanchissimo mamma mia stavo perdendo davanti ma non ce la faccio più devo sedermi devo fare manovra come tira o ce la faccio più dai 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 che sono ancora a zero lo chiamerei stai cicchellinando questo tratto qua perché guarda tra quel che ho zampettato e quel che ho vado in crisi con le mani io con le dita sentiero del merdoso porca pittana davanti è stretto appa E' un po' più dura